fa un effetto diverso ed è molto pesante per chi la indossa ma sono sono un po' gli anni che comunque ce l'ho addosso però è sempre un onore per me portarla in giro e per quello cerco di sempre fare anche bella figura e di dare il massimo infatti l'hai piazzata subito davanti la maglia tricolore però non sei riuscita a fare il vuoto ma sì abbiamo fatto un po' una gara assieme e con le con le compagne di squadra che così è sempre molto più divertente per quello abbiamo cercato ci siamo dati una mano e abbiamo fatto la gara assieme è stato stato una bella gara così una competizione nel gioco di squadra eh sì oggi è andata un po' così e ci siamo divertiti tutti tutti i due tutti e tre penso è che all'inizio c'era anche la Valentina e abbiamo cercato di dargli anche una mano e per quello è stato un bel gioco di squadra ci teniamo ad un tuo giudizio su questo circuito di gara è un circuito bellissimo è veramente bello complimenti e mi sono divertito un sacco